E parliamo dell'ospedale Piemonte. Ieri tavolo ristretto a Palazzo Zanca per trovare una soluzione da proporre all'assessore regionale alla sanità Lucia Borsellino sul futuro dell'ospedale Piemonte. Adesso sarebbero tutti d'accordo sulla fusione tra l'ospedale Piemonte e il centro neurolesi. Stamattina nuovo tavolo tecnico tra l'amministrazione comunale e il direttore del centro neurolesi Dino Bramanti. Vediamo. Trovata la quadratura del cerchio sul futuro dell'ospedale Piemonte, almeno in città, adesso si attende soltanto di inviare la soluzione su cui molti spingono da tempo all'assessore Lucia Borsellino e attendere il risponso della regione sulla nuova rete ospedaliera siciliana. E così, dopo mesi di polemiche, dibattiti, manifestazioni e scontri, il fronte di sindacati e comitati si è ricompattato sulla strada che sostiene la fusione tra l'ospedale Piemonte e il centro neurolesi, o meglio l'inglobamento da parte dell'IRCS dei posti letto del Piemonte. Le organizzazioni sindacali cantano vittorie e rivendicano la paternità della soluzione. Da un lato ci sono la CGL e il comitato Sanidea, dall'altro la UIL e il comitato Salviamo il Piemonte. Pare che vi siano state delle folgorazioni sulla via di Damasco a fondo a Giuseppe Calapai della UIL. Adesso è il momento di sostenere il sindaco affinché il Piemonte non sia l'unica struttura sanitaria ad essere sacrificata in Sicilia. Dall'altro la CGL spiega che l'intesa è stata raggiunta grazie alla proposta formulata dal sindacato, che è stato in grado di mettere assieme tutte quelle idee che costituiranno la base del documento da presentare alla Borsellino. Un documento in cui si chiede di seguire l'iter proposto da alcuni deputati regionali sull'integrazione tra Piemonte e Neurolesi e si evidenzia anche la disponibilità a gestire nuovi posti letto per riabilitazione e lungodeggenza. Tutti compatti anche il sindaco dunque sulla strada della Neurolesi. Stamattina i vertici dell'amministrazione comunale hanno infatti incontrato nuovamente il direttore dell'IRCS Dino Bramanti. Per l'ultimo summit, prima di mettere sul tavolo dell'assessore alla sanità la soluzione che di fatto rappresenterà una sorta di trasferimento dei posti letto del Piemonte sotto la gestione del centro dei Colli San Rizzo consentendo all'IRCS di avere a disposizione un presidio in pieno centro città. E vedremo come andrà a finire. Parliamo di nera blizze contro lo spaccio di droga alle scuole superiori di Patti. Manette è finito un diciassettenne denunciato per detenzione ai fini di spaccio. Addosso gli sono stati trovati circa 26 grammi di marijuana. Dopo la perquisizione i militari hanno deciso di ispezionare anche la casa del giovane dove invece sono stati trovati altri 80 grammi di cannabis. Un altro minore è stato segnalato per uso di stupefacenti. Ora vi raccontiamo una storia. Viene da Taormina. Si presentavano come due dipendenti Enel, con tanto di cartellino in bella vista. Chiedevano casa per casa di poter visualizzare le ultime bollette di luce e gas per essere certi che tutto fosse a posto e da zerare così eventuali costi superflui. Le vittime preferite erano le persone più anziane a cui due falsi dipendenti Enel facevano credere di firmare un mero atto di variazione contrattuale più favorevole. In realtà le vittime stavano sottoscrivendo un nuovo contratto con un'altra ditta per la quale i due truffatori lavoravano come procacciatori d'affari. Gli agenti del commissariato di pubblica sicurezza di Taormina li hanno bloccati con ancora addosso il cartellino fasullo dell'Enel ed un nutrito numero di volture già ottenuto in giornata con l'inganno. Sono stati denunciati per truffa. Dopo i lavori di adeguamento dell'IPAB conservatori riuniti ieri i minori ospitati all'ex caserma di Bisconte sono stati trasferiti nella struttura di via San Sebastiano ancora da sciogliere il nodo degli altri minori ospitati in diverse strutture cittadine. Trasferiti all'ex IPAB conservatori riuniti i 93 minori che ormai da settimane si trovavano all'ex caserma di Bisconte. La struttura di via San Sebastiano è stata consegnata ieri pomeriggio al raggruppamento di imprese Saini Sospis che si era giudicato l'appalto per l'accoglienza nello scorso aprile. Dopo alcuni lavori di adeguamento dello stabile i minori hanno così potuto lasciare la caserma di Bisconte dopo che lo scorso 31 ottobre il perfetto Stefano Trotta aveva disposto il trasferimento per evitare che i giovani migranti continuassero a vivere in una situazione di promiscuità con altri adulti ospitati così come è caduto per diversi mesi al Palanebbiolo. Anche se la permanenza nella struttura di via San Sebastiano non sarà una soluzione definitiva, spiegano dalla Prefettura perché in ogni caso si dovrà provvedere a reperire altre strutture idonee all'accoglienza permanente. Intanto non si è ancora trovata una soluzione per i minori ospitati alla Casa di Mosè dopo che l'Aibi, l'associazione che gestisce il centro ha più volte sottolineato di non farcela più a sostenere i costi dell'accoglienza così come hanno fatto anche le suore dello Spirito Santo che da mesi ormai si occupano di ragazze arrivati a Messina dall'Africa senza nemmeno una famiglia ma con la speranza di trovare in Italia un futuro migliore. L'autorità portuale vola ad Istanbul per intercettare le navi commerciali turche di tipo RORO e mette in vetrina assieme all'Istituto Commercio Estero le eccellenze del florovivaismo messinese. Vediamo. Missione speciale per il presidente dell'autority Antonino Desimone del suo ufficio marketing e promozione. Da domani saranno in Turchia per cercare di intercettare le compagnie turche. L'obiettivo è portare in porto le navi di quel paese considerando che lo stretto è un punto strategico di passaggio. L'occasione è data da una manifestazione internazionale. Da domani a domenica ci sarà il Flower Show Turkey una delle fiere del florovivaismo più importanti. L'autorità portuale sarà presente con uno stand dedicato ai florovivaisti della fascia tirrenica. Il progetto è potenziare l'attività commerciale dei porti di Milazzo e Messina. Partendo da questo presupposto, assieme a Camera di Commercio e Confindustria si è pensato di investire sui settori in espansione. In gioco c'è anche l'Università La Sapienza di Roma che sta conducendo uno studio per individuare i punti di forza e i punti deboli del forovivaismo e dei porti locali. Previsto una riunione con gli armatori turchi. Bisogna capire se ci sia la possibilità di intercettare le navi commerciali. Bisogna rimpiazzare delle perdite importanti nel settore croceristico e cioè le compagnie americane che hanno scelto altre rotte. Il porto di Messina negli anni scorsi è stato uno dei primi scali italiani, il primo in Sicilia per numero di arrivi. Si vorrebbero raggiungere risultati anche in campo commerciale. Parliamo di spettacolo e allora vi parliamo di un film dove hanno lavorato Massimo Giacoppo, campione olimpico, e Maria Grazia Maugeri, attrice. Si intitola Feedback, cola pesce, flusso luminoso. È un cortometraggio scritto da Antonio Cattino, Antonello Irrera, il regista e anche lo sceneggiatore. Nei giorni scorsi la proiezione alla Sala Visconti è riscosso notevole successo. Lo scorso anno il film, il corto, ha ottenuto anche il premio al Salina Festival. Vediamo. Sulla figura mitologica di Cola Pesce, umile pescatore che si tuffa su ordine di un re capriccioso e finisce per sorreggere dal fondo del mare la città che sta per sprofondare. È stato scritto tantissimo. La poetessa Maria Costa ha scritto una meravigliosa poesia che viene letta durante il corto, ma l'idea di Antonello Irrera e Antonio Cattino è singolare. Cola Pesce riaffiora come un fantasma e si presenta ai giorni nostri ad una ragazza Nina. Cola Pesce diventerà il suo sogno ricorrente, incubo e metà irraggiungibile. Sullo sfondo le bellezze dello stretto, le credenze dei pescatori del luogo, la lotta tra il bene e il male, incarnato da un pescatore che va in barca rispettando le regole e uno che fa pesca di frodo. Nina incarna forse la donna che un tempo amo Cola Pesce e a lei dichiara il suo grande amore. Cola Pesce è una delle leggende più antiche della nostra terra, della Sicilia. Per questo mi ha affascinato, ho letto qualcosa e siccome l'ho accumulato molto al messinese, alla nostra messinesità, mi è venuta l'idea di cominciare a scrivere o a studiarlo e fare qualcosa su questa figura che mi affascinava. Le istituzioni locali vi sono state accanto? Le istituzioni in parte, però ho fatto tutto da solo, ho appoggiato da qualche privato, un'associazione, l'Archeoclub, della mia associazione di armonia. Abbiamo suddiviso le riprese, alcune le abbiamo fatte a mare, alcune nella piscina a Cappuccini per fare delle riprese più limpide, sott'acqua e è andato bene poi col montaggio. Prossimo obiettivo? Il prossimo obiettivo è il lungometraggio, serie televisiva, non lo so, quello dipende dalle produzioni. Intanto sto scrivendo la sceneggiatura con Antonio Cattino e già siamo a buon punto e speriamo di poter realizzare questo obiettivo. In bocca al lupo al regista Herrera, noi ci godiamo gli spazi di libertà e poi torniamo in studio con altre notizie, restate con noi.